Cose che devi sapere sul Kashmir, in modo da non farti fregare. Il Kashmir è uno dei tessuti più pregiati al mondo, ma capiamo perché e vediamo insieme le tipologie di Kashmir che trovi sul mercato per evitare di fare degli acquisti sbagliati ad un prezzo salato. Innanzitutto devo dirti che il Kashmir è un tessuto che costa tanto, perché per produrre semplicemente 100-200 grammi di tessuto è necessario all'intero vello di una capra, quindi inevitabilmente i costi di produzione salgono. Ma il 100% Kashmir ha diverse tipologie di qualità e dipende dalla lavorazione. Più è sottile il filo di Kashmir, si chiama proprio così, più è pregiato che una fibra più lunga eviterà il fastidioso crearsi di pallini, pelucchi, antiestetici tipici dei tessuti lanosi. E non è vero che è un tessuto tipico invernale, perché è un perfetto isolante termico e mantiene perfettamente la temperatura corporea. Quindi è un tessuto che sarà caldo d'inverno e soprattutto quando è mischiato con un po' di seta, fresco per l'estate. Essendo un tessuto analergico evita irritazioni al contatto con la pelle, anzi ti dà quell'effetto caldo, morbido, avvolgente. Ma dov'è la fregatura? Quando nell'etichetta di molti, moltissimi brand è presente una quantità minima di questo tessuto. Quindi i prezzi salgono alle stelle e l'acquirente finale è convinto di acquistare un prodotto di qualità. Un 100% Kashmir ha un costo elevato. Aziende di tessuti tra le più importanti, come ad esempio l'Oropiana, hanno un Kashmir pregiato che può arrivare 400 agli 800 ma anche abbondantemente sopra i 1000 euro per metro di stoffa. E calcola che per fare un abito ci vogliono più di 3 metri di stoffa. Ma quando andiamo sul prodotto che trovi in commercio, attento alla scritta Kashmir Blend. Basta il 5% di Kashmir per ottenere questa etichetta. Ora il Kashmir Blend molto spesso è composto da 90% lana e 10% Kashmir ed è da considerarsi un prodotto di qualità ad un prezzo sicuramente accessibile. Il problema è quando trovi un 5% di Kashmir mischiato a un tessuto acrilico che fa perdere completamente le capacità termoisolanti del prodotto che in quella quantità così bassa non ti darà nessun beneficio ed è semplicemente un modo per far aumentare il prezzo di cartellino. Quando si va su acquisti che io considero di lusso è importante rimanere aggiornati. Scrivimi in privato se hai bisogno di altri consigli e soprattutto seguimi per ampliare il tuo universo maschile a 360 gradi.